Negli ultimi giorni non sono mancate le notizie relative ad allagamenti, nubi fragili e temporali, ne abbiamo parlato anche poco fa. Ad esempio a Milano in tre mesi ha piovuto tanto quanto piove solitamente in un intero anno. Si tratta di eventi meteo estremi che sono in corso in tutto il nord Italia e che diventano sempre più frequenti e sempre più intensi a causa del cambiamento climatico. Ecco ma cosa c'entra il riscaldamento globale con questi fenomeni? L'aria calda del sud del Mediterraneo sta entrando in contatto con l'aria fredda del nord Europa generando perturbazioni fortissime come quelle che hanno causato gli allagamenti e gli alluvioni nel nord del nostro paese. Più in generale insomma il riscaldamento globale genera i cambiamenti climatici, cambiamenti a cui noi ci dobbiamo adattare. E per meglio adattarci dobbiamo capirli, dobbiamo cioè capire quello che sta accadendo sul nostro pianeta e dobbiamo quindi studiare quello che sta accadendo sul nostro pianeta. Per questo motivo in Liguria è nata la prima Climate School italiana che si è tenuta dal 16 al 19 maggio scorso. E allora per capire com'è andata noi abbiamo invitato qui al Rapporto Mondo il direttore scientifico della scuola che è Marco Merola, giornalista, divulgatore scientifico e fondatore di adaptation.it. Buonasera e bentornato a Rapporto Mondo. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Ciao Marco, bentornato. Allora, come è andata questa prima Climate School italiana? Ma guarda molto bene, era un esperimento importante che abbiamo voluto fare in un territorio particolarmente impattato dagli effetti della crisi climatica perché eravamo in Liguria che appunto sappiamo essere una regione che purtroppo è andata agli onori delle cronache per tanti episodi. Hai citato tu prima le grandinate ma ricordiamo le sondazioni dei fiumi, gli smottamenti, dissesti idrogeologici e via discorrendo. La Liguria è una regione molto fragile come del resto lo è gran parte dell'Italia leggendo anche i rapporti di Ispra e di tutti gli istituti impegnati a fare la fotografia del paese. Quindi farla lì in particolare eravamo nella zona d'Imperia, in cinque comuni dell'entroterra imperiese, la cosiddetta Vale del Nervia che prende il nome dal fiume Nervia e ti dicevo è stato un esperimento importante perché non esisteva fino ad ora una climate school. Per climate school intendiamo una scuola diffusa quindi che abbraccia innanzitutto non una ma più comunità, si parlava appunto di cinque diversi paesi dei quali sono stati chiamati diciamo a intervenire tutta una serie di fasce di questa popolazione. Cioè si è pensato di fare un programma che si rivolgesse sia agli amministratori pubblici locali, sia agli imprenditori, a chi ha delle attività economiche, lì è una zona a forte vocazione agricola e zootecnica soprattutto, si fa tanta vitivinicoltura, si fa un ottimo vino locale importante, però senza dimenticare anche tutte le altre fasce della popolazione impattate appunto dalla crisi climatica e ci riferiamo in particolar modo ovviamente alla gente comune, ai lavoratori, insomma tutti quelli che vivono in quelle zone e attenzione anche i bambini più giovani perché è da loro ovviamente che deve partire poi la vera e propria rivoluzione culturale che dovrebbe essere la base per la transizione, la famosa transizione ecologica. In questo senso oltre a fare appunto dei seminari più tecnici ce ne sono stati due particolarmente importanti, uno sulla agricoltura 5.0 dove sono venuti dei docenti che ho invitato da varie università italiane, soprattutto Università di Genova, Politecnico di Torino e Università di Torino che hanno spiegato appunto ai produttori locali come utilizzare la tecnologia, l'intelligenza artificiale, i droni, la robotica per potersi confrontare e adattare a degli scenari che ovviamente non sono consueti. Un altro seminario importante si è fatto sul turismo sostenibile, altro tema che anche voi ho visto trattate ovviamente molto spesso nella vostra trasmissione perché l'Italia è anche ostaggio di questo fenomeno dell'over tourism, quindi ci sono numeri ormai da capogiro, tra poco nella stagione estiva si attendono milioni di visitatori in ogni luogo d'Italia e questa è una cosa che mal si sposa con quelle che sono le esigenze sempre di questo mondo cambiato. Ma dicevo tornando ai bambini un gruppo di giovani ricercatori del Politecnico di Torino ha portato lì in Liguria un progetto che si chiama Mi Lego al territorio dove Lego non è tanto il verbo ma è proprio il mattoncino di plastica della Lego con cui tutti credo abbiamo giocato da piccoli. Bene, con questi mattoncini hanno costruito un enorme modello di collina e di greto di fiume, di letto di fiume dove poi hanno fatto scorrere l'acqua vera e con questo hanno spiegato ai bambini che cosa succede quando arriva una pioggia particolarmente estrema con l'esondazione dei fiumi, gli smottamenti delle colline e via discorrendo. E i bambini hanno imparato dove non si deve assolutamente costruire, dove non si deve assolutamente andare ad abitare in certe situazioni. Quindi school è proprio inteso nel senso più ampio del termine. Questo insomma è importante, lo diciamo sempre a te l'ambiente, lo dico sempre anche io che qui conduco anche Crescimi Tu che è un programma dedicato all'infanzia e all'adolescenza di quanto è importante sensibilizzare le nuove generazioni, renderle partecipe da subito di quello che deve essere il cambiamento e l'adattamento al clima che cambia. Prima di salutarti Marco ti volevo chiedere, visto insomma questo ottimo primo buon esperimento di Climate School ti voglio chiedere, avete già in mente, insomma in futuro lo rifarete magari in un'altra regione d'Italia, avete già qualche progetto? Guarda ti ringrazio molto per la domanda, in realtà il format è stato scritto, abbiamo visto che funziona, abbiamo visto che appassiona le persone, abbiamo avuto una ottima partecipazione per essere una prima edizione, abbiamo coinvolto anche la cittadinanza con dei giochi di citizen science cosiddetta, cioè la scienza dei cittadini, soprattutto sulla mappatura, con i GPS, insomma è stato veramente un gran bel esperimento. Abbiamo avuto anche l'Enea che ha parlato di mare con la ricercatrice Chiara Lombardi, insomma abbiamo cercato di abbracciare tutto il più, diciamo tutte le fasce della popolazione. La vogliamo esportare, vorrei che questo format venisse esportato in altre parti d'Italia, in questo senso abbiamo fatto e farò anche proprio una vera e propria call sui social, su LinkedIn affinché gli interessati si facciano avanti, magari qualcuno che ci sta vedendo in questo momento in trasmissione è interessato a portare nella propria regione, nelle proprie zone. Se ne sentiva veramente il bisogno perché altrimenti le persone e le comunità sono ancora troppo distanti da chi racconta le soluzioni possibili per gli impatti della crisi climatica e noi abbiamo voluto accorciare questa distanza. Quando qualcuno risponderà al tuo appello noi saremo qui per raccontarlo. Intanto grazie a Marco Merola per essere stato nostro ospite qui a Rapporto Mondo. A presto. Grazie a voi, a presto.